Qualificazioni ai prossimi campionati del mondo Vediamo insieme la classifica dei gironi Questi sono i giocatori indisponibili della squadra Ci colleghiamo con lo stadio per le formazioni delle squadre e la diretta della partita C'è gran attesa per la tua prestazione È il miglior marcatore del campionato, sicuramente tra i protagonisti più attesi per questo match Clima che si presta perfettamente a un bel match di calcio Cielo sereno, temperatura gradevole, grande pubblico Un saluto da Pierlu Gipardo, con me come d'abitudine L'Elia Dani per il commento tecnico Squadra a caccia di un risultato positivo per muovere la classifica C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni Da non perdere Questa è la formazione con cui scendono in campo 4-3-3 classico, il loro modo di partenza Con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1 Mi sembra anche una scelta di buon senso Ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso Così non lasciano il centrocampo troppo scoperto Possono abbassare il vantaggio E il pubblico ovviamente rumoreggia per un'occasione importante e sciupata Occhio agli ospiti, Lele Sono la squadra con più gol segnati nella competizione Oggi gli ospiti rischiano di farci divertire, eh, Pier? Secondo le statistiche sono la squadra che segna di più E la difesa avversaria è avvisata Angolo battuto non bene Decisivo l'intervento qui Errore e pallone riconsegnato Conclusione larga che non ha trovato la porta L'intenzione era buona, eh Ha esagerato con la mira e ha mancato il bersaglio Intervento scomposto, pulito con il rosso Qui sono completamente saltati i nervi Ha sbagliato completamente Non si concede una punizione da questa posizione Sono stati molto bravi a aprirsi un barco della difesa avversaria Hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato Prodezza balistica, questa che merita, eh Uh, se merita di essere rivista Conclusione rientrare che si è infilata alle spalle del portiere Dopo aver scavalcato la barriera Meraviglioso Arriva il segnale di chiusura alle prime 45 Con le squadre che vanno a riposo E' tutto pronto? Comincia il secondo tempo Attaccano a caccia di spazi Pallone che è uscito davvero di molto Aveva lo spazio per calciare La distanza era notevole, è vero Ma ciò non togli che poteva fare meglio Locatelli Parata efficace col tuffo E' calcio di rigore Calcio di rigore per l'Italia L'allenatore si affida a forze fresche Risultato che potrebbe tornare in parità Trasformazione perfetta Ecco il penalty di poco fa Ha calciato un golato Beffando il portiere Che era rimasto fermo Sperando in una conclusione centrale Passano avanti Quando in molti li davano per spacciati Dopo l'espulsione E invece Adesso Conducono loro Stiamo rivedendo il gol Questa è una punizione calciata Con l'interno piede Ne è venuta fuori una traiettoria a uscire Che non ha lasciato scampo al portiere Si mette in proprio Donna Rumba Attenzione Non è finita Siamo entrati nel finale del match Con gli azzurri avanti Ma ovviamente Hanno bisogno di mantenere Alta la concentrazione È il momento di serrare le fila Per difendere questo vantaggio Fino alla fine Pier Finora hanno concesso poco Alla squadra avversaria Devono continuare così Per respingere anche gli ultimi assalti E devono anche cercare di proporre Per andare a chiudere questa partita E mettere definitivamente Al sicuro il risultato Chiara che finisce qui Bella vittoria esterna Per la squadra ospite Per seggere i tifosi Che hanno scelto di accompagnare La squadra Per questo viaggio Hanno puntato tutto anche oggi Sul loro straordinario potenziale offensivo Concedono qualcosina dietro E' vero Ma quando riescono a sviluppare Le loro trame di gioco E costruire diverse palle goal La vittoria è quasi sempre assicurata Vediamo insieme in grafica Le statistiche della partita E chi è stato il migliore in campo E chi è stato il migliore in campo Questi sono i risultati delle partite e la classifica di tutti i gironi. Se ti è piaciuto questo video metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.